Sì, ho avuto una telefonata con il segretario Blinker perché la cosa più naturale da fare era chiedergli cosa sapesse e quindi è quel che ho fatto. Al di là delle dichiarazioni di apprezzamento e di complimenti di cui avete letto poi diffuse da loro, sostanzialmente il segretario di Stato mi ha confermato l'assenza di forze politiche italiane nella lista di destinatari di finanziamenti russi, oggetto dei lanci giornalistici di questi giorni. Poi si è anche riservato di verificare se ci fosse evidenza di finanziamenti in altri documenti a disposizione delle autorità americane e si è impegnato a comunicarlo tramite canali istituzionali. Successivamente, come ha riferito il sottosegretario Gabrielli oggi al Coop Assir, i vertici dei servizi segreti italiani hanno avuto contatti con i loro omologhi statunitensi e in queste conversazioni l'intelligence americana, quindi l'intelligence diversa dal Dipartimento di Stato, diversa dal Tesoro, l'intelligence americana ha confermato di non disporre di alcuna evidenza di finanziamenti occulti russi a candidati e partiti politici che competono nell'attuale tornata elettorale. l'intelligence americana è forte, non è che si fa battere dai nemici esterni, dai loro pupazzi prezzolati, insomma dobbiamo essere fiduciosi nella nostra democrazia, questo non bisogna avere timore di qualunque voce, è chiaro che negli ultimi vent'anni il governo russo, e questo risulta da amplissime ricostruzioni internazionali, ha effettuato una sistematica opera di corruzione nel settore degli affari, nel settore della stampa, nel settore della politica, in tanti settori, in molti paesi europei e negli Stati Uniti. Queste sono cose note insomma, quindi c'è niente di cui stupirsi, per quanto riguarda però oggi questa è la situazione.